Buongiorno e benvenuti a questa video analisi del 30 giugno quindi l'ultima di questo mese che ci porta praticamente all'estate video analisi che potete ricevere gratis via email come fare molto semplice basta cliccare sulla scritta che vedete sopra la mia testa e vi invito a farlo anche se siete già registrati alla newsletter perché dal 5 luglio questa video analisi intermarket avrà una newsletter dedicata quindi se volete ancora continuare a ricevere via email comodamente e gratuitamente soprattutto questa video analisi cliccate sulla scritta e registratevi al nuovo link che trovate all'interno del sito perché come detto dal 5 luglio solo chi sarà registrato alla newsletter video analisi intermarket la potrà ancora ricevere comodamente nella propria casella di posta elettronica. Video analisi realizzata insieme a STO il sito lo vedete alla mia destra i contatti di Marco Pianezza stanno passando adesso ma li troverete più volte sempre la stessa scritta che compare il numero 02 l'ufficio diretto di Milano l'indirizzo email Marco mi ha detto che è stato inondato da richieste di aperture conti demo in questi giorni. mi fa molto piacere vi invito a farlo potete provare proprio gratuitamente i servizi STO con una demo con soldi virtuali quindi vedere come funziona la piattaforma prendere dimestichezza con questo tipo di strumenti che sono i CFD CFD detto in inglese e poi decidere eventualmente l'apertura del conto e comunque c'è Marco che vi segue vi prende per mano in tutto quello che serve da sapere per quanto riguarda questi mercati. Bene ho qui con me il sole 24 ore di oggi fondo monetario banche tedesche vulnerabili e la partita si gioca proprio sul discorso bancario ieri c'era il nostro Futsimib che esplodeva a rialzo andava bene tutto a rialzo anche per i motivi che vi avevo detto proprio ieri dove il titolo della video analisi era Futsimib potrebbe ringraziare il Brexit perché in questa situazione eccezionale di emergenza si potrebbe ritoccare quello che è o comunque modificare sempre secondo quelle che sono già le regole previste dal normativa europea in merito al sistema bancario che comunque a livello europeo ancora non è definito del tutto. A livello nazionale italiano per esempio sappiamo che il discorso bail in ovvero noi risparmiatori siamo solidali entriamo a soccorso della banca in caso di fallimento potete comprendere la gravità in un contesto di crisi come quello odierno come stiamo vivendo adesso Brexit con lo scudo BCE che va a riparare i titoli di Stato e allora gli speculatori vanno a concentrare le vendite su poi i titoli bancari quelli finanziari. Quindi potrebbe essere favorevole appunto questa situazione di emergenza perché comunque il bail in lo riconosce che ci potrebbe essere un intervento dello Stato in situazioni eccezionali ed è lì che sta facendo leva praticamente il nostro primo ministro. La Merkel si poteva risparmiare la frase che ha detto no a cambi di regole praticamente ogni due anni l'abbiamo già definito due anni fa non possiamo ogni volta stare a rimescolare le carte. Renzi è subito ribattuto ha detto no assolutamente noi vogliamo fare tutto secondo le regole anzi ha detto chi fino adesso non ha rispettato le regole in passato è proprio la Germania. Insomma è già partita già cominciata la partita visto che sabato c'è Italia Germania e il campionato europeo e non mancano le frecciatine da una parte e dall'altra. Fatto sta che ieri però ha giocato a favore di Renzi indubbiamente questo report del fondo monetario appunto che dice le banche tedesche sono altamente vulnerabili banche e assicurazioni in quanto i tassi bassi i tassi addirittura negativi incidono per esempio sulle polizie assicurative e polizie vita assicurative che devono rendere nei prossimi anni 3-4 punti percentuali. In questo contesto diventa una chimera un lavoro arduo e teme il fondo monetario internazionale ma non solo il fondo monetario internazionale che dovranno inventarsi qualcosa alla ricerca di nuovi rendimenti così come soprattutto il vecchio oramai arcinoto problema dei derivati che hanno in pancia come spesso avrete letto le banche tedesche e le casse di risparmio. Insomma quindi situazione bancaria molto delicata ed è proprio qui che adesso intanto passiamo alla piattaforma eccola qua STO questa è la metatrader che potete provare gratuitamente senza impegno così giusto per prendere dimestichezze e vedere come funziona e potete anche fare simulare una operatività. Quindi Tokyo ha chiuso leggermente invariato con un dato sulla produzione industriale molto negativo molto a di sotto di quelle che erano le attese degli operatori anche se un dato era il preliminare ed è abbastanza volatile se vedete il grafico insomma l'attendibilità si sa che può avere delle forti escursioni o a rialzo o a ribasso questa volta è stato a ribasso e fa preoccupare però soprattutto l'apprezzamento dello yen che c'è stato in questo contesto di avversione al rischio visto che il dollaro yen viene solitamente giù. Quindi l'indice Nikkei questo grafico che adesso state vedendo alla mia destra chiude con un possibile inversione al rialzo con la candela verde e chinaci sul supporto di riferimento a 15.145 ma è pesante il passivo giugno chiude quasi meno 10 punti percentuali erano 4 anni insomma che non si vedeva una performance così negativa quindi wow è stato selling may go away mi fa pensare. Vediamo la situazione degli indici americani grazie a STO passiamo dal Giappone agli indici USA che ieri hanno conosciuto una seduta positiva e lo vedete già qui. Stanno recuperando stanno rimbalzando i rispettivi supporti li vedete scritti in aria per quanto riguarda questo qui a sinistra è il Nasdaq 4225 per quanto riguarda l'S&P 500 2007 aria 2007 17200 per il Dow Jones che adesso è 17750. Questo ovviamente il futures che quota anche prima seguono proprio sono i CFD ma seguono praticamente quelli che sono gli strumenti regolamentati quindi qui mini Nasdaq mini S&P praticamente anche il Dow Jones. E' a favore del Nasdaq perché grazie a STO non solo possiamo si può operare possiamo operare anche io sono cliente infatti questa è proprio la mia piattaforma STO possiamo operare su indici forex materie prime valute obbligazionario ma anche sui principali titoli americani titoli proprio azionarie. E vi faccio vedere questa situazione questa impostazione del Nasdaq dove ovviamente il Apple gioca un ruolo fondamentale e proprio per i fan di Apple so che molti di voi usano investire su questo titolo. Eccola lì si è formata la candela verde ai chi nasci sul supporto in area 92 e 22 che è proprio l'area dove in precedenza qui si veniva da questo crollo in area 111 e 86 da quelle parti c'era stato un primo timido rialzo con una candela verde si era andato un po' più giù per poi risalire definitivamente poi tornare giù. Guardate quanto sono belli i grafici a chi nasci chiarissimi i trend ora non è arrivato fino all'area 90 dollari così come era successo qui praticamente però si è formata prima e vedremo se effettivamente ci sarà o meno questa inversione da questo livello per quanto riguarda il discorso Apple stiamo parlando quindi potete proprio investire su titoli azionari americani. Vediamo adesso la situazione indici dall'America passiamo all'indice euro dove candele verdi è stato già prima l'Inghilterra il fuzzicento ha invertito prima di tutti ed è questo qui praticamente quello vicino alla mia immagine è già invertito e si dirige verso il livello dei 6.400 faccio un utile zoom non si vede comunque 6.400 il livello alla resistenza però resistenza sempre si è confermata dalla presenza di una candela rossa ai chi nasci. C'è anche una timida candela verde sul nostro Fuzzi Mib però lo sapete benissimo all'interno del paniere Fuzzi Mib i titoli bancari hanno un'incidenza fondamentale importante quindi c'è la candela verde sull'indice ma se andiamo a vedere grazie STO possiamo farlo vedere i titoli azionari anche italiani e qui c'è il profilo scusate la voce ma ancora non mi sono ripreso del tutto dal gol di Pellè contro la Spagna e anche l'aria condizionata qui in Puglia fa caldissimo siamo già in piena estate quindi se il Fuzzi Mib c'è quella timida candela verde direi che parla chiaro il quadro grafico di questi 6 titoli tra i più importanti insomma quelli bancari soprattutto qui vedete intesa San Paolo e Unicredit è rosso ai chi nasci dice che qui inversioni per il momento ancora non se ne vedono quindi se questi non invertono il Fuzzi Mib avrà vita dura a salire quindi attendere magari delle conferme da qui ma se non si sblocca la situazione a livello europeo con se non si crea praticamente quando ci fu la speculazione BTP Bund spread BTP Bund 2011-2012 la BCE trovò adesso poi con quantitative easing rafforzato questo scudo protezione contro questa speculazione si sta cercando di fare la stessa cosa sui titoli bancari visto che ora gli speculatori hanno cambiato mila dai titoli di Stato si stanno vanno a puntare tutta la loro forza le vendite sui titoli bancari si sta cercando di creare qualcosa di simile per i titoli bancari fino a quando non ci sarà uno scudo vero e proprio il Fondo Atlante si parla che sarà potenziato ma fino a quando non arriverà un supporto forte diciamo da livello europeo qui la situazione resta ancora delicata ecco perché Fuzzi Mib potrebbe ringraziare il Brexit di ieri se in questa situazione eccezionale storicamente nuova potrebbero esserci delle deroghe trovare anche tra i cavilli insomma quello che è come studiata come pensata la norma le norme normativa europea trovare dire ok una deroga o qualcosa insomma sempre secondo le regole così come dice Frau Merkel vediamo un attimo Forex e materie prime perché c'è un articolo solo 24 ore che vi voglio far vedere quindi è arrivata finalmente anche la candela rossa vedete USDCAD che è correlato inversamente col petrolio petrolio già non aveva bucato il supporto ma la candela verde l'altro giorno è andata a rafforzare nuovamente l'impostazione a rialzo si incastrano bene adesso è tornato il grafico a specchio per quanto riguarda USDCAD e petrolio sono inversamente correlati quindi se sale uno scende l'altro mediamente non sono automatiche queste correlazioni gold resta ancora alto qualche difficoltà a rompere questo livello dei 1340 la resistenza 1340 per quanto riguarda altre valute dove ovviamente è il business core di STO soprattutto sulle valute eccola qui che si vede piccola una possibile candela verde ai chi nasce anche sul nostro caro euro dollaro ma vado a prendere adesso ritorno anzi no non l'ho fatto ancora vedere il sole 24 ore le borsa scommettono sulle banche centrali perché adesso vedremo attenzione segnatevi queste date 14 21 e 27 luglio 14 luglio meeting della banca centrale inglese 21 bce 27 federa riserva quindi sono tre appuntamenti importanti non scontati dopo il brexit si parla di tagli di tassi per quanto riguarda bank of ingland e forse qualche sorpresa anche dalla bce mentre federa riserva resta tutto fermo immutato gli articoli di cui voglio far mettere alla vostra attenzione è il primo qui a destra un'analisi del giornalista cellino rimbalzo pieno di incognite ma quello che ha decisamente attirato la mia attenzione metto così magari riuscite anche voi a vedere bene il discorso di e questo l'ho già detto che in questo momento dal report e io vi tengo anche aggiornato in tal senso il report di Merlin Lynch dove i grandi gestori hanno una liquidità in portafoglio elevatissima ai tempi tale che non si vedeva dai 2001 neanche 2008 2001 5.7 se non ricordo male percentuale ma in questo trafiletto qui quello che balza all'occhio al mio occhio e che condivido con voi perché attenzione lo strategist azionario di Barclays mette in evidenza che al contrario sottolinea come i gestori attivi quelli che non replicano il benchmark quindi quelli che sono fermi con una liquidità alta in questo momento sono quelli che replicano il benchmark sono passivi e quindi cercano di rimanere vicino all'andamento del benchmark che può essere un indice l'S&P 500 per dire quindi non discostarsi perché ovviamente devono cercare di performare seguire la performance dell'indice o del benchmark quello che è di riferimento quelli passivi che invece sono quelli che anzi no i gestori attivi questa volta scusatemi che non replicano ma cercano di ottenere guadagni extra con continue operazioni sui titoli hanno accelerato prima del referendum fino a portare le posizioni sull'azionario vicine ai massimi post crisi quindi l'esito del voto li ha però presi in contropiede questi sono i professionisti del risparmio attenzione parliamo proprio della crema di grandi gestori che avevano scommesso praticamente probabilmente è tutto quello che si è visto in rialzo precedente al voto del 23 giugno lo scorso 23 giugno li ha presi quindi c'è da attendersi sono stati presi in contropiede e ora c'è da attendersi un'ondata di riscatti che potrebbe stavolta protrarre a lungo come nel 2011-2012 la pressione ovviamente si parla sui listini e non vedere un rimbalzo tipico a V come abbiamo visto inizio anno si parla quello odierno praticamente l'analisi e capire se adesso siamo di fronte a un rimbalzo a V come è stato inizio anno dove inizio anno ci fu i minimi i famosi minimi dell'11 febbraio o no questo dato di fatto fa pensare quindi cautelatevi anche di conseguenza sappiate anche c'è questo dato e poi velocemente il solito discorso robot o trading umano discrezionale le macchine contro l'uomo gli algoritmi insomma quello che comunque voglio porre alla vostra attenzione dice che con la Brexit gli algoritmi hanno guadagnato alcuni mentre gli hedge fund venne discorso complessivamente hanno perso soldi gli hedge fund, gli stessi hedge fund che nel 2008 conobbero il peggior drawdown degli ultimi dieci anni professionisti del rischio del risparmio, i grandi gestori e poi parla qui che ci sono stati insomma dei fondi dove ci sono praticamente dei robot, delle macchine quindi l'elemento emotivo, tutta quella che è stata l'emotività un argomento di cui ho parlato tantissimo prima soprattutto del voto referendum e anche dopo finanza comportamentale se ricordate bene c'era proprio anche nel titolo di qualche video analisi si dice che praticamente questo articolo spiega che in questi contesti di alta emotività ovviamente i robot non stanno a seguire i sondaggi ma vedono serie storiche, grafici e tutto il resto e quindi viene messa da parte tutta quella che è la psicologia e hanno seguito solo quello che dicevano gli input, come funzionava insomma il sistema, l'algoritmo è assopraperformato quindi in questo caso è andato meglio attenzione insomma io sono sempre, essere quasi un robot umano però perché anche lì gli algoritmi non è che siano proprio infallibili, fate comunque anche lì attenzione va bene per oggi è tutto, grazie per la cortesa attenzione a tutti voi, buona giornata grazie a tutti